Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi giocheremo a Brewstar, se saranno speciali 30 iscritti. Con mio cugino arriviamo a 17 like, iscrivetevi al canale, iniziamo. Questa è un pochettino, è riuscita. E c'è una scomparsa? Poi perchè è stata già uccisa. Noi abbiamo solo due paure rapi Dobbiamo andarcene a prenderci un buono Perché ce ne hanno già presi Attenso Mamma mia quanto mi sta antipaticascelli Beh io sto qua O sei power up E qui nessuno mi vede Andiamo De Oppure facciamo morire E poi facciamo l'affronto con l'ultima squadra Devi Stiamo andascosto un attimo Scegli intanto ha fatto la super Ce l'ho visto No Nei circogli non ci vedono per forza Sì ma andiamo a battere quel carro La zero power up No ma è solo quattro Sì Vabbè arriviamo a secondi qua Quel poccio ha tredici Sì come no Vabbè Vabbè Hai mano Hai mano Sì come no Sì come no Sì come no Sì come no E lasciate like se volete sempre arrivare primi Poccio fa schifo mi raccomando Scrivete nei commenti io mi metterò un cuoricino Ciao